Storia, filosofia e religione, da sempre sono fulcro del pensiero umano. Sono queste le tematiche più profonde presenti in Storie di giorni andati. Romanzo d'esordio del giovanissimo scrittore crotonese Antonio Campagna, presentato all'interno della Casa della Cultura lo scorso 27 giugno. Lui è un professore di storia e filosofia all'interno di una caserma militare e racconta agli allievi un po' la storia passata, quindi la storia universale, però in parte anche le sue esperienze, i suoi viaggi. L'intento dell'autore è quello di raccontare la storia universale attraverso il suo protagonista, un generale che si trova ad insegnare all'interno di una caserma militare. Il messaggio che viene fuori dal romanzo è proprio quello di insegnare ai ragazzi tramite la parola e tramite l'uso della parola e quindi tramite un linguaggio pacato. L'obiettivo è proprio quello di evitare la guerra tramite la parola, tramite l'uso della parola. Il romanzo nasconde qualcosa della vita del proprio autore, interessato a mettere nero su bianco quello che è il suo amore per la storia e la filosofia. Sì, ho provato a raccontarmi, perché in parte è un romanzo autobiografico, però a raccontare soprattutto argomenti storici di una certa rilevanza. Antonio Campagna ha presentato il suo romanzo a distanza di due anni dalla sua prima opera Il sole e i giorni, una raccolta di poesie sempre pubblicata da CSA, dimostrando la grandissima capacità di riuscire a muoversi tra la narrazione romanzesca e la più pura metrica poetica. Il romanzo è stato scritto nel 2017, quindi due anni fa. Ho sempre desiderato scrivere un romanzo, quindi l'ispirazione è nata un po' dai miei studi e in particolar modo per quanto riguarda il protagonista, il generale Domson, è nata dall'aver conosciuto determinate persone di un certo calibro che mi hanno permesso di trarre ispirazione. Dopo aver dedicato il libro di poesia a mio padre, adesso dedico il romanzo a mia madre che per me è stata anche una fonte inesauribile di consigli.